Ha 12 anni che non si fa attività ciclistica e ora spunta su un sito di vendita di biglietto online che il giorno 25 agosto c'è un concerto. Io vorrei sapere solamente da colui che ha autorizzato questo concerto, perché qualcuno che l'abbia autorizzato ci sia, come si può fare in un impianto che è inagibile per fare sport e per fare attività ludica, per fare attività sociale con le scuole del comprensorio o del quartiere, e essere invece agibile per fare un concerto a scopo di lucro. Due anni fa ero venuto a fare un sopralluogo con l'ex direttore del Coime, hanno iniziato a sistemare la pista, la pista era completa, era quasi tutta interamente finita. Poi c'è stato un problema del manto, del fondo del campo, che ha portato a una serie di atribbe fra Comune e Coime e attività giudiziarie che hanno bloccato completamente i lavori. E da due anni sono con le quattro frecce, ora così per miracolo spunta che per un concerto di De Gregori e Venditti i lavori possono riprendere, tutto si può aggiustare, ma si aggiusta il manto, non si aggiusta la pista, dove nel frattempo è cresciuto l'erba e i giunti si sono dilatati nuovamente. E tra l'altro ha maggior ragione, con la tribuna coperta che è inagibile. Tra l'altro c'è la tribuna coperta che è completamente inagibile, basterebbe solamente levare questa fatiscente copertura per renderla agibile totalmente. È un impianto per lo più estivo, per cui la tribuna coperta non so a cosa servirebbe in questo impianto. Tra l'altro il Comune vi ha avanzato una richiesta per cercare di usufruire dei fondi del PNRR. Sì, è giunta questa richiesta, io parlerò più tardi col Presidente nazionale per vedere se la federazione ha intenzione realmente di poter investire su un velodomo come Palermo con quello che è successo, o se dirottare i nostri progetti su Monti Chiari o su Treviso, dove magari l'attività si fa più frequentemente. Come al solito la Sicilia perde sempre le occasioni della vita. Grazie per la visione!